Io mi chiamo Francesco Gabrielli, ho frequentato l'Università Politecnica delle Marche, nello specifico un corso di Scienze Ambientali e adesso sto portando avanti un dottorato di ricerca con la Borsa Euro che appunto, in collaborazione con l'ASA di Corignanaldo, ovvero la discarica di Corignanaldo che gestisce tutta la frazione indifferenziata dei rifiuti della Regione. Esperienza? Per ora buona, mi sta piacendo il lavoro, è interessante il progetto che stiamo portando avanti, c'è collaborazione tra i vari membri di questo progetto, cioè me, la professoressa e il direttore della discarica e anche la protezione civile perché si è unita e interessata a questo progetto e quindi per il momento il giudizio è ottimo.